un saluto alle bambole di pezza e benvenute sui music fan ciao 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 music fan innanzitutto è un piacere trovare una diciamo una rappresentanza delle delle bambole di pezza per parlare di cresciuti male questo nuovo singolo con con j ax che per voi cosa rappresenta per noi è innanzitutto avere ax alessandro è stato bellissimo soprattutto per il suo valore artistico e la stima reciproca quindi ci conoscevamo già da tanto tempo e lui ovviamente è un artista anche mainstream però che appoggia e da sostegno anche a realtà tra virgolette emergenti e non mainstream come le bambole di pezza quindi avere il suo il suo supporto anche quando solitamente per i featuring mandi insomma la tua idea di brano e capisci se può o no interessare all'artista gli è piaciuta e ha scritto subito la sua trofa quindi questo per noi è un motivo di grande orgoglio e soprattutto proprio stima secondo me diciamo che è importante comunque questo brano perché si vede molto bene riesce a mettere in risalto quello che siete voi quelle che sono le bambole di pezza in qualche modo parlando anche di quello che è il vostro percorso dal punto di vista musicale sonoro eppure appunto con un featuring mainstream siete riusciti a non snaturare minimamente semplicemente portando in questo caso sul sul palco in un in un brano voi stesse sì sì infatti siamo molto soddisfatte del risultato cioè troviamo che sia un pezzo che ci rispecchia assolutamente no no infatti ci ci sta loro lo vedo lo vedo sia musicalmente perché comunque ha un ritmo piuttosto sostenuto e quindi siamo un po le rappresentanti di una certa musica alternativa quindi anche quella che si faceva tanti anni fa di cui anche ax è stato un grande fan sostenitore di tutti i progetti punk rock e anche la sua voce poi devo dire si presta molto bene poi lui tra l'altro ha fatto anche jay axonville che appunto aveva connotati molto molto punk rock e molto graffianti si sposa bene infatti anche il suo la le sue lyrics nel brano quindi era si era sviluppata con un'idea che poi jay ax ha connotato anche con questo sapore della donna comunque indipendente alternativa da amare per tutto e portarsi dietro per tutta la vita che un po forse la sua storia d'amore con la sua compagna ecco certo ma tra l'altro punto il titolo può essere considerato una provocazione mentre invece il brano è un vero e proprio inno alla ribellione a quella libertà e rivendicate comunque la volontà di essere voi stesse sì e non conformi a comunque a quello che vuole di base la società per lo stereotipo della anche della crescita no dei ragazzi che che dicono a come si è cresciuto male rispetto magari a un'infanzia ea una visione magari più stereotipata della della società e della tua famiglia ecco invece noi siamo fiere di essere un po delle ragazze sui generi nel senso che ognuna di noi ha veramente un animo trasgressivo per tanti versi anche solamente il fatto di aver abbracciato un percorso complicato come quello della musica ecco assolutamente ma tra l'altro questo concetto di cresciuti male è comunque un inno generazionale e tra l'altro quello che sorprende è che la volontà comunque di ribellione c'è sempre nelle generazioni anche quelle più giovani però forse e questo potrebbe essere considerato un discorso forse un po da vecchi però nel senso forse sembra un po annaquato tutto questo forse c'è più voglia di digitalizzazione piuttosto che di ribellione Kai non lo so io penso che in questo momento persone della nostra generazione che magari sono figli e figlie di boomer diciamo così c'è si sente comunque un peso di un'erebità che c'è spesso si dice non lo so che siamo una generazione che non ha voglia di lavorare che che non si impegna abbastanza io alla tua età avevo già una casa avevo già dei figli e cose del genere quando il mondo in cui viviamo adesso non è quello che era quindi anche sentiamo la pressione di delle richieste che la società non ci consente neanche di realizzare cioè non è un mondo facile in questo momento per i giovani e io penso che la canzone parli anche di questo di questo disagio sì secondo me appunto la canzone mette molto bene in risalto anche quello che quello che è il disagio e quello che colpisce che comunque ascoltandola più volte rischiano ad emergere nell'interno del brano proprio più sfumature più più livelli diciamo che una canzone davvero stratificata da questo punto di vista diciamo contente infatti che possa essere il nostro scopo sempre anche con nella scrittura anche in primis cleo che la cantante poi anche la penna dietro la maggior parte dei dei brani ha proprio questa visione che non deve essere per forza indirizzato a un pubblico femminile che deve comunque poter valere nella vita dei giovani meno giovani o di chi si sente un po come noi abbiamo il nostro inno che appunto è io non sono come te una canzone del nostro eh del nostro diciamo disco di coming back delle bambole di pezza che proprio ci rappresenta appieno e questo è l'ennesima voglia proprio di gridare ehm chi siamo eh ma e di farlo gridare anche le persone con quella anche leggeretta no del riconoscerti come non conformi a a degli stereotipi ma come come piaccia a noi ecco assolutamente poi tra l'altro diciamo che questa atmosfera anche molto scansonata emerge nel videoclip quanto vi siete divertite abbiamo sudato tantissimo perché è stato girato è stato girato proprio in una domenica di ritorno da un weekend di concerti quindi eravamo abbastanza distrutte dalla vita il giorno più caldo di luglio senza aria condizionata quindi tutta la sofferenza e sudore emergono anche nel video assolutamente lo diciamo che un punto di forza del progetto bambole di pezzi è proprio la capacità di essere di essere credibili in diversi aspetti dell'arte perché chiaramente guarda la musica la musica dal vivo ma non solo anche altri linguaggi mi viene in mente per esempio il fumetto il fumetto era sempre stato un po il nostro pallino anche era un'eredità delle delle vecchie bambole quindi avevamo già cominciato a intraprendere proprio con dei metti emergenti quindi erano dei disegnatori che avevano voglia di fare qualcosa di nuovo e avevano pensato di di proporci una storia un po di ribellione che si sposava con i nostri personaggi quindi un po sempre rappresentanti alla tangherle ecco quindi aveva avevamo fatto questa prima avventura e poi è stato un peccato cioè dovendo ritornare abbiamo preferito ovviamente rivedere rivisitare il fumetto di degli anni precedenti sempre con gli stessi disegnatori rivedendo i testi rivedendo gli stessi disegni delle nuove componenti abbiamo e l'abbiamo insomma rifatto per poi chissà speriamo di poterci anche dedicare un po le fiere del fumetto che sono sempre molto divertenti anche tutte le manifestazioni che vertono intorno insomma un po al mondo anime manga eccetera avevamo fatto anche dei concerti in occasioni proprio di queste convention o feste del fumetto e ci piacerebbe ovviamente avere un continuum adesso nell'attualità per poi magari fare un secondo fumetto trovare sempre nuove cioè ci piace lavorare anche proprio con giovani o che persone che hanno nell'arte una loro ragione di vita e di impegno quindi anche dei disegnatori che comunque anche per loro non è facile vivere vivere di arte sposare le varie arte unirsi con le capacità di ciascuno di vincolare dei messaggi di ciascuno ovviamente noi come bende come anche con i nostri follower eccetera i nostri concerti quindi poterlo portare al merchandising e anche gli stessi disegnatori magari nel trovare in noi uno stimolo nuovo per una nuova storia e per magari fare qualcosa che sarà il due il tre metto delle bambole di pezze ecco perché no perché sarebbe anche carino fare che è un altro dei nostri sogni a fare anche un documentario no sulle bambole di pezza perché veramente sia le nostre storie che le nostre avventure sono sono sempre molto particolari a volte ci sono delle avventure pazzesche o delle situazioni dove ci divertiamo moltissimo oppure riflettiamo su diversi temi e perché no chissà se un domani riusciremo a fare il film documentario delle bambole c'è un'altra c'è tanta la cosa fisica insomma che per il momento ci limitiamo ai racconti anche tramite il la nostra pagina social che instagram dove tentiamo sempre dentro morgana ci punzecchia sempre per per riprendere quello che stiamo facendo o pensando le varietà della band ma tra l'altro punto dobbiamo sottolineare i centomila follower che non sono per nulla scontati un punto di traguardo appena superato quindi è giusto che questo sottolinearlo ma proprio per i fit perché appunto avete adesso collaborato con con jx ma la scorsa primavera invece avete collaborato con i fillei qual è il valore aggiunto di un fit soprattutto con i fillei diciamo che anche dal punto di vista musicale e artistico ci sono tantissimi punti in comune beh sicuramente vai vai tu vai tu no ma cioè è stato è stata molto bella l'idea da parte loro appunto di questo ritorno di averci voluto coinvolgere è bello perché veniamo da uno stesso ambito musicale quindi c'è l'opportunità di collaborare di di farci sentire insieme che è anche un modo per arrivare a più persone e cioè creare anche una scena cioè credo che sia molto importante questa cosa Dani tu cosa volevi dire? esatto proprio quel discorso un po' romantico per me che è la scena la famiglia no quindi la stessa provenienza magari uno stesso background gli stessi interessi gusti quindi negli anni insomma 2000 e anche tra i vari vari gruppi tendevamo un po' a fare gruppo ecco poi negli anni un po' questa cosa si è si è dilatata e si è dispersa perché anche diciamo il genere un po' alternativo del punk rock è stato un po' subissato dal fenomeno della trap del rap e di tutte le nuove scene più urban però adesso siamo contenti che si stia un po' riformando questo questo sottobosco e si rimettano un po' insieme le fila dei discorsi magari iniziati anni fa in Italia ecco quindi è bello proprio sentirsi parte di una stessa scena l'ultima domanda è legata ai live perché sui social avete scritto che per un attimo vi fermerete quindi cosa dobbiamo aspettarci? è un grande ritorno quando sarà il momento però ancora non annunceremo niente non si può ancora svelare niente dai c'è la voglia ovviamente di tornare perché noi siamo una band più che vabbè sì lo studio è importante i pezzi che escono sono anche fondamentali proprio per la connessione con i tuoi ascoltatori per tentare sempre di spingere di più però noi siamo una band veramente tanto live dove anche non suonare per un po' ci fa paura ecco perché è un motore e poi è una raccolta di veramente di avventure che ci fanno on the road ecco all'insegna e sotto la bandiera del rock and roll ovviamente ci piace anche proprio l'idea di pensare in grande quindi di tentare di vedere il nostro anche spettacolo proprio come tale cioè sentirci anche delle artiste quindi magari concentrarci anche di più sulla cura di quel piccolo dettaglio da portare poi nei nostri prossimi live quindi queste pause sono fondamentali sia creativamente parlando quindi per dedicarci alla scrittura ai servizi fotografici a tutte le cose che magari tra un live e l'altro si fa un po' fatica a fare andare in studio registrare nuovi brani portarci più avanti possibile anche con la nostra nuova musica e poi e piano piano anche dedicarci ai nostri sogni anche di avere il live che veramente ci ci rappresenti al al cento per cento ecco anche perché Kaya anche è una grande artista è una bravissima oltre che musicista anche cantante lo stesso Fede che è Xina la batterista quindi vogliamo anche che nel nostro show ci siano questi i nostri animi differenti proprio che non 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 ne emerga solo uno ma che queste cinque punte di una stella formino proprio la stella delle bambole di pezza ecco io non posso dire un po' di questo momento per per ricaricare cioè per ricaricarci a livello sia musicale che creativo abbiamo dato tantissimo quest'estate cioè il live è sempre un momento in cui dai 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 condividi tanto ma soprattutto appunto reverse cioè hai la possibilità di 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 condividere questa cosa bellissima però abbiamo bisogno di un momento anche noi di stop come diceva Dani per appunto ritrovare e ricaricare queste energie ed essere ancora più sul pezzo 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 con le bambole di pezza ho visto che il nicio di Kain nel frattempo che ha fatto capolino nell'intervista come si chiama millivanilli ne ho due ma l'altra non so dov'è l'altra si chiama scratti polatti dai io il cane qua siamo pet friendly invece il cane è spiacciato perfetto fantastico desideri desideri Kruger ragazzi grazie mille davvero vi auguro buona musica e davvero presto grazie grazie e grazie per l'intervista grazie grazie per l'intervista grazie grazie per l'intervista 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 grazie per l'intervista